Il Consiglio Comunale E io credo che ci debba anche essere una presa di coscienza da parte della gente che continua a disertare queste sedute in un modo sbagliato. La gente deve sapere che cosa avviene qua dentro, deve verificare quali sono gli orientamenti, i processi formativi delle decisioni e non può starsene a casa e poi lamentarsi. È all'insegna della polemica per il mancato avviso del rinvio la prima convocazione della seduta di Consiglio Comunale anche se prontamente sono arrivate le scuse del Sindaco Bottone presente in aula stamane insieme al Presidente dell'Assise Donato e dai nuovi rappresentanti dell'esecutivo, il neovicesindaco Ciro Cosentino ed il neovassessore Gerardo Palladino. Assenti tutti gli altri membri del Parlamentino Paganese che dovrebbero invece rispondere all'appello domani alle 16 in punto. Anche se per il primo cittadino non si paventano altre motivazioni se non quelle legate ad una convocazione mattutina in una giornata lavorativa, da più parti sembra serpeggiare malumore rispetto alle recenti scelte politiche del Sindaco, reo di aver lasciato per strada pezzi importanti della coalizione politica che lo ha sostenuto nella fase elettorale. Anche i due nuovi assessori Cosentino e Palladino sarebbero infatti espressione diretta del gruppo Bottone, stante l'abbandono di Forza Italia e Grande Pagani che hanno deciso di sciogliere l'accordo stilato in campagna elettorale non riconoscendosi più nella linea politica del Sindaco. Il Consiglio Comunale non è saltato, era organizzato per domani e ne avevamo parlato anche con consiglieri della stessa minoranza che avevano chiesto la cortesia di rifarlo domani perché oggi lavorativo avevano già assunti degli impegni, quindi dei consiglieri si vede già dalla presenza, mi spiace soltanto per il consigliere Grillo che non era stato avvertito di questo rinvio al giorno di domani perché in sostanza tutti quanti erano stati avvisati e quindi come potete verificare non erano presenti. Abbiamo individuato due nuovi assessori nella persona del Vice Sindaco Cosentino con l'ingegnere Palladino come ulteriore assessore. Credo che questi erano già parte insi dalla maggioranza, loro ci danno un supporto in più, un apporto in più, hanno delle professionalità specifiche ma ancora di più anche delle competenze che avvengono fuori dall'esperienza del mandato elettorale. Credo che con Cosentino sicuramente potremmo dare uno slancio all'attività.